Il progetto In Action mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Lo scopo è di produrre conoscenza e consapevolezza sui temi energetici e di rendere gli studenti e le studentesse dell'Università di Bologna i protagonisti di un percorso di divulgazione e sensibilizzazione. Per questo abbiamo lavorato con un gruppo di 17 iscritti e iscritte al corso di laurea magistrale in architettura e chiesto loro di rispondere a una serie di domande sul tema trasversale dell'energia. Questi video resi pubblici sono il lascito del progetto In Action, da e con gli studenti, per la città e il territorio. Il patto dei sindaci è un movimento politico che nasce nel 2008 e viene incentivato dalla Unione Europea e i sindaci aderiscono liberamente. Anche la città di Cesena fa parte del progetto del patto dei sindaci e che quindi mira a sviluppare delle politiche appunto verdi al fine di garantire la transizione energetica ed ecologica. Ogni comune quindi, ogni sindaco, deve adottare entro i due anni dalla sua adesione al movimento un piano d'azione a fronte ai tre temi attuali per affrontare la transizione energetica, quali mitigazione, adattamento, povertà energetica. Grazie. 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 Grazie.